Di nuovo un cordiale buongiorno a tutti voi e ben ritrovati per questa edizione del Tg giorno di martedì 2 maggio 2023. Dunque potremmo dire per lanciare il primo servizio di questa edizione che in Italia e anche nella nostra provincia sono sempre troppi i furbetti che hanno sfruttato il reddito di cittadinanza. Vediamo i dettagli in questo servizio. La Guardia di Finanza di Lucca ha scoperto numerosi illeciti contro il reddito di cittadinanza denunciando 30 persone per l'indebita percezione del contributo per un totale di circa 210.000 euro. Le verifiche sono state svolte in collaborazione con l'Inps. Tra le posizioni irregolari è stata trovata la mancata residenza in Italia da 10 anni, requisito necessario quella di un uomo che dopo la presentazione della domanda effettuava numerose giocate registrate su un conto arrivando a movimentare nel solo 2021 somme per oltre 320.000 euro. E' ancora il caso di una lavoratrice tenuta a nero in un salone per parrucchiere in Versilia per una paga di circa 400 euro ma anche percettrice dal luglio del 2022 del reddito di cittadinanza. Tra le altre irregolarità quelle di beneficiari che hanno messo di dichiarare introiti economici da vincite a gioco online, il caso della percezione di reddito di un parente del nucleo familiare o ancora la mancata comunicazione di condanne. Sarà la direzione provinciale dell'Inps a recuperare le somme illegittimamente incassate. Anche in provincia di Lucca si è celebrato il primo maggio la festa dei lavoratori, partiamo dalla Garfagnana e da Bolognana. Era la sera del 24 novembre del 1939, 84 anni fa, e l'asselto Valdanno stava realizzando nella Valle del Cerchio alcune dighe artificiali e le relative gallerie di condotta delle acque. Fu proprio all'interno di una di quelle gallerie che a causa di una frana persero la vita nei pressi di Bolognana dieci operai. Così ogni anno, il primo maggio, la piccola comunità di Bolognana e l'amministrazione comunale di Gallicano, in collaborazione con Enel, ricordano i caduti sul lavoro con una cerimonia al monumento eretto e ricordo di quella tragedia, dove sono scritti i nomi degli operai che vi persero la vita. La commemorazione di un momento tragico che dà oltremodo significato anche alla giornata in cui si celebra la festa del lavoro e che dunque nel sacrificio per il lavoro ripropone l'importanza della sicurezza nei luoghi di lavoro. Sempre nutrita e convinta a questo momento la partecipazione delle autorità, tra cui quest'anno anche il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Il primo maggio non è solo un giorno di festa, è un giorno di lotta contro il preguagliato, contro le disuguaglianze, contro lo sfruttamento. Il lavoro è dignità, il lavoro è coesione riscatto sociale. Ho deciso di essere oggi qui per ricordare i dieci operai morti nel 1939 e per dire che un lavoro dignitoso è solo un lavoro più sicuro. La cerimonia, alla presenza anche delle rappresentanze delle tre sigle sindacali, si è conclusa con il momento forse più toccante, la deposizione di tre corone di Arloro al monumento ai caduti. E nel giorno della festa dei lavoratori non è mancato un pensiero per Eugenio Viani e Antonio Pellegrini, due operai che persero la vita nel pomeriggio del primo settembre 2017, mentre stavano montando i lumini per la processione di Santa Croce. Nel luogo di quella tragedia, in via Vittorio Veneto, siamo in pieno centro a Lucca, si è recato il sindaco di Lucca, Mario Pardini, accompagnato dagli assessori Moreno Bruni e Remo Santini. Primo maggio anche a Stiava con un corteo e vediamo il particolare in questo servizio. La leggera pioggia di metà mattina non ha fermato il corteo del primo maggio di Stiava, appuntamento storico per tutti i lavoratori della Versilia e della provincia di Lucca. La manifestazione quest'anno è stata dedicata ai 75 anni della Costituzione, primo baluardo nella difesa dei diritti in tema di lavoro. A sfilare per le strade, accompagnati dalla banda Puccini di Bozzano, insieme all'amministrazione comunale di Massarosa, i rappresentanti delle sigle sindacali, in particolare CGL e CISL. Quest'ultima delegazione è particolarmente nutrita, vista la presenza del segretario regionale Ciro Recce. Il corteo, seguito dai trattori dei contadini della CIA, ha raggiunto il monumento ai caduti, dove è stata deposta una corona di alloro. Per i sindacati, una sorta di prova generale, in vista della mobilitazione nazionale, in programma sabato 6 maggio a Bologna, manifestazione alla quale prenderà parte anche una notevole rappresentanza sindacale dalla Toscana. Sul tavolo, il decreto lavoro, varato dal governo Meloni proprio la mattina della festa dei lavoratori. Non è esattamente chiaro cosa intendono fare. Sicuramente è un passo, un'attenzione verso il lavoro. Bisognerebbe che fosse più concertato e ci fosse anche un'attenzione da parte del governo rispetto a quelle che sono le scelte che mettono in campo per poterle valutare insieme. Non c'è ancora nulla di ufficiale, di scritto, quindi valuteremo appena ci sarà qualcosa di più concreto. Tema centrale resta sempre quello della sicurezza e delle morti sul lavoro. In questo paese continuiamo a morire di lavoro. Anche negli scorsi giorni morti sul lavoro, niente sta succedendo per ovviare a questa tragedia. Tanti discorsi da anni, però ormai i discorsi devono stare a zero perché qui non si può continuare a morire due, tre, quattro al giorno di lavoro. Ci spostiamo di poco, andiamo a Seravezza dove è stato un primo omaggio molto intenso. Le note della filarmonica di Riomagno hanno accompagnato il primo omaggio di Seravezza. Il corteo ha attraversato tutto il paese nella tradizionale manifestazione in omaggio ai lavoratori. Da Via Campana al centro si è fermato per la deposizione di una corona commemorativa al monumento a Vasco Zappelli, storico sindacalista locale della CGL, e poi al monumento ai caduti del lavoro. Oltre ai sindaci di Seravezza e Stazema e al vicepresidente della provincia di Lucca, erano presenti i vertici della CGL, con il segretario provinciale Fabrizio Simonetti e il numero uno toscano Rossano Rossi. Il primo maggio è stata anche l'occasione, infatti, per inaugurare la nuova sede del sindacato di Via Campana, accanto alla vecchia Camera del Lavoro, ed è stato Rossi a criticare apertamente le misure sul lavoro appena varate dal governo. Perché si è fatto un intervento sul cuneo fiscale ridicolo, ridicolo, che dà nulla, dà 15 euro l'ordine in mese, per farli sembrare di più, invece dà l'ultimo mese dell'anno. Si è andato per sei mesi l'anno, questo è proprio il gioco dei bussolotti. Noi il 6 maggio scendiamo un piazzo, una grande manifestazione nazionale a Bologna. Io credo che tutti dobbiamo andarci, tutti dobbiamo venire. Non è che la rivoluzione si fa su Facebook o comunicare sulla stampa o quant'altro, quella da divano non serve a nulla. E se non ci vogliamo andare per noi, perlomeno andiamo sui nostri figlioli. Primo maggio, ma in questo caso inteso come grande expo, del primo maggio a Fornaci di Barga. Dopo due giorni di tempo incerto, ma che comunque ha tenuto, la pioggia ha infine bagnato la giornata clou della grande expo del primo maggio a Fornaci, che nel giorno del primo maggio vede tradizionalmente anche l'inaugurazione. Un'occasione di festa, un'occasione per celebrare il lavoro, come ricordato anche dal presidente della provincia di Lucca, Menezia. Un momento appunto anche di festeggiamento intorno al tema del lavoro, a 75 anni dall'entrata in vigore della Costituzione italiana, che appunto dice che l'Italia è fondata sul lavoro, quindi un momento anche di ripensamento sul lavoro oggi. Tra le autorità intervenute anche l'assessore regionale Stefano Baccelli, il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, e i consiglieri regionali Mario Puppa e Valentina Mercanti. Soddisfatta poi la sindaca di Varga, Caterina Campani, per questa tre giorni, che nonostante l'acqua è stata un successo. Soddisfatta, complice anche il tempo nei precedenti giorni, c'è stata tanta gente, tanto movimento. Oggi si fa l'inaugurazione di questa importante expo, che è una delle manifestazioni più importanti della provincia, è una manifestazione di tutta la valle del Cerchio. Caterina Campani, durante i saluti, ha ricordato anche l'ultimo dei fondatori della manifestazione, Emilio Sainati, venuto a mancare poco tempo fa. Per tanti anni l'ha seguita, la curata è stata tra i fondatori della manifestazione del primo maggio, Emilio Sainati, cui chiederei un applauso. Per quanto riguarda la manifestazione, pioggia o non pioggia, tanta gente in questa tre giorni ha preso d'assalto le tante proposte dell'Expo, dai fiori ai vari settori della mossa della motorizzazione. Il tutto è stato dunque un successo. A proposito di fiori in natura, tra le novità in mostra la presenza di un particolare stand espositivo allestito per l'occasione dal reparto Carabinieri Biodiversità di Lucca. Andiamo a Cabannori per il tradizionale concerto del primo maggio in piazza Aldomoro, un concerto rovinato dalla pioggia, che comunque non ha frenato la partecipazione. La Kermess musicale, che ogni anno attrae migliaia di persone, come sempre promossa dal Comune, in collaborazione con la regione toscana e con Leg Live e Motion Group, ha visto la presenza di grandi artisti del panorama musicale italiano per un appuntamento che quest'anno è stato tutto al femminile. Tra questi sul palco, prima del concerto di Carmen Consoli, la cantante siciliana Beatrice Quinta e anche Dolce Nera. E adesso parliamo di Lucca Classica 2023, cala il sipario sulla nona edizione. Si chiude con successo la nona edizione di Lucca Classica Music Festival. La rassegna, promossa dall'Associazione musicale lucchese e diretta da Simone Soldati, ha proposto anche quest'anno un ricco calendario di appuntamenti. Circa 70 gli incontri e i concerti in programma nel corso della sei giorni, che ha trasformato la città in un auditorium diffuso. Suoni, storie e persone che si mescolano e si trasformano vicendevolmente. Questa la formula magica della Kermess, che ha sorpreso il pubblico con numerosi ospiti di eccezione. Tra loro Elio, di Elio e le storie tese, con lo spettacolo in prima nazionale dal titolo Ma cosa dici quando dici opera? Stefano Bollani e la moglie Valentina Cenni, premiati con il riconoscimento del festival. Il maestro Peppe Vessicchio e i fratelli violinisti Alessandro e Massimo Quarta. Siamo contenti perché le presenze, il clima, l'attenzione mediatica a livello nazionale ci dicono questo. Chiaramente poi faremo un bilancio ancora più dettagliato, però ecco, a poche ore di distanza dall'ultimo concerto non possiamo che ringraziare tutti, il pubblico che ci ha seguito, la stampa e gli artisti che hanno suonato. Calato il sipario sul Lucca Classica 2023 si inizia già a lavorare per il cartellone del prossimo anno che segna due importanti tappe nella storia della manifestazione. Decima edizione del festival e sessantesimo anniversario della fondazione dell'Associazione Musicale Lucchese. Stiamo già lavorando, il livello che abbiamo raggiunto è già alto ma dobbiamo crescere. Vogliamo fare un salto di qualità maggiore e stiamo lavorando per questo. Anche perché tutti coloro che ci sostengono ci sono vicini, ci hanno fatto riallegramenti e hanno già promesso di sostenerci anche per il prossimo anno. Quindi stiamo lavorando già fin da ora con grande impegno e programmazione. Come denunciare la violenza che subiscono le donne anche attraverso le varie forme d'arte? In questo caso attraverso la pittura. Sul lungomare Europa di fronte al pontile di Lido di Camaiore, il grido del silenzio. Una mostra di pittura a cielo aperto. Donne sofferenti, sottomesse, un esercito silenzioso di creature impaurite, schiave di situazioni incomprensibili. Questo racconta la bella mostra della pittrice Maria Teresa Cicini, il grido del silenzio. La mia è un'arte di denuncia proprio per combattere la violenza psicologica inflitta alle donne. L'iniziativa è promossa in collaborazione con la Casa delle Donne di Viareggio. Bisogna sempre tenere riflettori accesi sul tema della violenza perché bisogna stare vicini alla Casa delle Donne. La mostra è articolata in tre momenti, l'abuso, la consapevolezza, la rinascita. Inoltre è parte di un progetto strutturato in due parti. Insieme a quelle in mostra, le opere di Maria Teresa Cicini sono presenti sulle etichette di 100 bottiglie di vino di un'azienda agricola di Bolgheri. L'intero ricavato della giornata va devoluto al centro antiviolenza l'una per l'altra. Il ricavato dalla vendita dei quadri di questa iniziativa di oggi, a chi andrà? Appunto alla Casa delle Donne e inoltre andrà nella Casa delle Donne anche il ricavato della vendita di 100 bottiglie di imperfetto dell'azienda Bolgheri. Di cui appunto la pittrice si è fatta mediatrice per noi. E questa sera torna alle 21.15 Carpe Diem, ospiti di Silvia Toniollo, Luigi Ficacci, già sovrintendente beni culturali di Lucca e da poco nominato nuovo presidente del Festival Puciniano. Ma saranno nostri ospiti anche il patron del Summer Festival, Mimmo D'Alessandro, il giornalista Alan Friedman, che è anche presidente onorario dell'appuntamento musicale lucchese. Nella seconda parte invece, vediamo appunto i tre ospiti in queste foto, nella seconda parte invece le nostre telecamere si sposteranno a casa della famosa chef Federica Continanza, vincitrice del premio 5 stelle d'oro della cucina, assegnato dall'associazione italiana Cuochi e Guru dell'Homme Restaurant. È tutto per quanto riguarda la prima parte del TG Noi, linea alla regia e poi le notizie sportive. Grazie.